Nella zona antistante il porto sono allestiti numerosi punti di ristoro dove è possibile degustare la tipica cucina mediterranea occidentale. Pensate il couscous, il tè, i dolci tipici del deserto e naturalmente anche il tonno cucinato in svariatissime modalità. E pensate a proposito del tonno che ieri sera ho assaggiato un'originalissima mousse al tonno. Una particolarità di Carlo Forte è che l'isola è abitata da una cospicua comunità proveniente da Pegli. Anticamente infatti queste persone si spostarono per la pesca del corallo nell'isola di Tabarca, sulle coste dell'Africa, per poi stabilirsi definitivamente a Carlo Forte. Show, music e concerti ogni sera sul palco centrale, dove l'animazione è affidata al team della Nastra Azzurro, sponsor ufficiale della manifestazione. Per le strade sentirete parlare il genovese misto al sardo e vi garantisco che l'effetto è molto simpatico. Ciao! Ciao! A tu lado me siento mejor Nunca te vayas de aquí mi amor A tu lado me siento mejor Nunca te vayas de aquí mi amor A tu lado me siento mejor Nunca te vayas de aquí mi amor A tu lado me siento mejor Nunca te vayas de aquí mi amor Nunca te vayas de aquí mi amor Nunca te vayas de aquí mi amor